ancora buona serata e buon viaggio da firenze smart e da mauro ciutini partiamo con la 11 un veicolo è fermo tra prato ovest e pistoia in direzione di pisa veicolo in avaria tra sasso marconi e il bivio 1 variante di varico siamo in a 1 la direzione è quella per firenze rallentamenti sulla firenze pisa livorno dopo un incidente a ponte d'era est in uscita provenendo da firenze sempre sulla strada di grande comunicazione fino a stasera per verifiche all'impianto idrovoro chiusura della corsia di marcia nel tratto tra il chilometro 68 e 100 e 68 e 600 in direzione mare nel ramo di livorno passiamo al raccordo siano a firenze possibili disagi c'è una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra tavarnelle e poggi bonzi nord è tutto grazie a regione toscana città metropolitana comune di firenze